Elia, Mallamo, Mazzotti, Colpani, Zambataro, allenatore signora Bonacino, a disposizione Vido Zecco, Ricci, Cogliari, Eleuteri, Pagliari, Fortea, Piccoli, Milani, Guarnone, Vito, Votinonis, Trigoni, Puevenga, Torrasi, Bellanova, Vigolo, Marchesi, Fabozzi, allenatore signora Stefano Nava, a disposizione Cavaliere, Pianti, Forte, Finessi, Fresciarini, Zico e Torfio, dirige l'incontro il signor Certosa di Sesto San Giovanni, primo assistente signora Ficosia di Saronno, secondo assistente signora Cassano di Saronno, ricordiamo che i palloni dell'incontro sono offerti da Sportiva, italiani signori 35 a Crema. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 No, non sembra. 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 No, non sembra.